Sono loro, è rosa, sono loro, dai, bravi! Grazie a tutti! Ecco gli altri, ecco gli altri! Ecco gli altri, ecco gli altri, ecco gli altri! Un saluto a LettriTV, è una web tv che fa musica originale, dai un saluto come mi pare a voi! Un saluto a LettriTV, è una web tv che fa musica originale, dai un saluto come mi pare a voi! No, non mi volevo sicure perché in sera, però è un ronzio! Ma chi intorno a me? Solo intorno a me, a lei non c'era niente, lei per la franca, per la raccontare! Intorno a me c'era un ronzio! Un saluto a me, a lei non c'era niente, lei non c'era niente, lei non c'era niente! Un saluto a me! Ma perchè non vi fate un giro fino alla linea? Siamo con la bacca la nostra, andiamo, permesso. E lui alla metro non aspetta che escano quelli, prima che entra lui. Quanto è stato il tappeto di conoscenza? Un saluto Elettri TV, come vi pare a voi. Elettri TV, un saluto come vi pare a voi. Rock, rock, è musicale, grande. È rock, è musicale, siete giovani. Elettri TV, un saluto come vi pare a voi. Elettri TV, un saluto come vi pare a voi. Elettri TV, un saluto come vi pare a voi. Elettri TV, un saluto come vi pare a voi. Elettri TV, un saluto come vi pare a voi. Un saluto come vi pare a voi. , come vi pare a voi. In un